Parla di prima per Rani, attenzione Guli, non c'è fuori gioco, va dentro, Vieri, Bobo, il tiro, è gol, 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 è piaggio, di prima per Cossessano, non c'è fuori gioco, Twister va, e Twister va, attenzione, è in tirare dalla destra, può metterla, Rani, solo, gol, 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 è la messa Rani, che azione, che azione, che azione. Il taglio per Rani, non c'è fuori gioco, Rani che va, Rani che va, Rani che va, Rani che va, salta Ferran, il tiro è gol, 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 Sasigliatelo. Salda Ferran, porta vuota, spingimi. Goal, goal, goal di Ronny. Per poter fare i scatti. L'errore, attenzione. Ronny, salda da partiere. Ronny, attenzione, il tiro, il palo. Ronny, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol. E gol, e gol, e gol, e gol. E gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol. E gol, e gol, e gol. Ronny, dai ragazzi, dai ragazzi. Balla dentro, sul sinistro. mette fuori il limiterirmi in carica il destro GALL! 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 RANNIE!